Il nubifragio alla causa di abitazioni allagate, famiglie evacuate dalle case, franne sulla strada provinciale da Santa Marina a Policastro e tanta paura fra gli abitanti. Danni ad attività commerciali, garage, primi piani, fortunatamente incolume la popolazione. Circa 20 gli sfollati accolti per il maltempo nella delegazione comunale e nel cineteatro di Policastro. Distrutte anche diverse apparecchiature mediche di un centro accreditato all'Asla. È stato un disastro, un disastro ambientale, una calamità naturale mai vista. Ho 53 anni, non l'avevo mai visto, ma anche gli anziani che abbiamo soccorso durante la notte non avevano mai visto una portata così grande, una precipitazione così intensa che ha durato molte ore. Da mezzanotte è scattata l'allarme, mi ero appena coricato, mi ha chiamato subito l'assessore alla protezione civile e Cavalieri Giuseppe che aveva avvertito questa problematica. Ci siamo messi subito in campo. Voglio ringraziare tutti quelli che questa notte, in piena notte, hanno aiutato a tutte le persone che avevano bisogno. Abbiamo cercato di fare il possibile, non è facile perché i danni man mano che il giorno sta arrivando si toccano con mani, si guardano con mani, ma stanotte è stata una cosa veramente triste, è stata una tragedia ambientale. Non l'ha vista personalmente, non può capire. Le persone che piancevano, soprattutto il piano terra, il sementerrato e la parte, la vallata di Policassa e Bustentino, tutta la zona marina è completamente allagata. Le persone erano state bloccate, siamo stati costretti ad aprire il cineteatro e la delegazione per ospitare anziane e giovani perché le case erano completamente allagate. I danni veramente sono incendi, quindi stiamo cercando di organizzare con l'ufficio tecnico, con gli operai, con la protezione civile, di fare una mappatura delle esigenze immediate, di dare una priorità, aprire immediatamente. Sto già prontando un'ordinanza non solo di sgombero dell'abitazione in grave pericolo per la pubblica e privata incolumità, ma sto preparando anche un'ordinanza immediata di realizzazione di canale di scuolo per consentire di deflusso all'acqua che si è accumulata a ridosso a monte della Statale 18. È stata veramente una nottata bruttissima, triste, un capitolo triste per la nostra comunità, ma con determinazione e con forza come sempre cerchiamo di risolvere il problema e di uscircene da questo triste evento naturale.